Servizi privati, un nuovo sistema gestionale nella sfida del welfare provinciale per le esigenze degli anziani trentini a occuparsene la cooperativa Assad. A fianco ai servizi di assistenza domiciliare e in convenzione con l'ente pubblico nasce il Quadrato, catalogo dei servizi per l'aiuto nel muoversi, l'accompagnamento, la compagnia, l'assistenza nei pasti, l'igiene personale e altre attività per alleggerire le famiglie degli anziani. Tutto è partito a fine 2012 quando il sociologo Nadio Delai ha presentato dei dati che dicevano chiaramente che a questi ritmi di sviluppo demografico la gestione della vecchiaia in Trentino sarà emergenza con sempre minori risorse pubbliche e famiglie sempre più povere. Nel 2030 in Trentino gli anziani saranno 151.000 contro i 102.000 di oggi e per questo da dicembre a oggi la cooperativa Assad ha analizzato i dati e messo in campo i servizi coniugando l'intervento pubblico del privato sociale e del mercato. Quello che ci aspetta, ha concluso il sociologo Delai, è in realtà un grande trasferimento di operatività dal pubblico al privato sotto qualsiasi forma. Inevitabile l'argomento disabilità e accessibilità ai diversi luoghi, sia detto come istituzioni e albergatori creando una rete ad hoc per agevolare i disabili potrebbero portare lo stesso settore turistico a scoprire nuove risorse. Grazie per la visione!